Come l'hai fatta? E' un bambino che si mette, un altro video. Durante i tempi ufficiali li ascono tra il primo giorno. A me sta scritto là, qua, qua. Ora vedremo un po'. Grazie. 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 Grazie, Andrea. Guarda qua. Sono proprio il gestore. Sono fatto un partito. Ciao, dalla curva. Un ultimo video. Vai, Andrea. Vai. Vai, Andrea. Vai. Vai. Grazie.